Era da un po' di tempo che non vi parlavo di una carrellata di gadget a mio avviso da comprare ed oggi per voi ho selezionato alcuni prodotti che, beh, forse mi odierete perché faticherete a non acquistare Partiamo subito da uno dei miei brand preferiti, anche uno dei prodotti preferiti che vedrete oggi Satechi, come ben sapete, è un'azienda che mi piace tantissimo cura benissimo l'aspetto anche estetico di ogni suo prodotto e questa docking station, o meglio questa base di ricarica wireless con supporto fino a 5 dispositivi di ricarica contemporaneamente è davvero favolosa La basetta che permette la ricarica wireless riesce ad erogare fino a 10W e funziona naturalmente con qualsiasi smartphone che da supporti quindi un Android, un iPhone, ma anche con le AirPods Sull'altro invece troviamo quattro porte, due USB in grado di erogare fino a 12W di potenza ma, udite udite, ben due power delivery, quindi USB-C con supporto a 20W quindi se avete un cavo USB-C Lightning potete anche caricare in modo rapido il vostro iPhone oppure un cavo USB-C USB-C caricare rapidamente un vostro Android Andiamo avanti perché un'altra azienda che adoro è Bose ed oggi voglio parlarvi del Bose Soundlink Micro è uno speaker USB disponibile in vari colori che ha come caratteristica quella di avere un laccetto, una fibbia in grado di poter mettere ovunque vogliate questa cassa speaker anche sotto l'ombrellone, vicino al vostro zaino, sulla bicicletta insomma, questa è una marcia in più che questa cassa che si sente benissimo riesce ad offrirvi naturalmente potete interfacciarla con l'applicazione di Bose è impermeabile, ma questo significa che è resistente all'acqua, schizzi d'acqua o se ci finisce un po' di acqua su, ma non che potete immergerla nella vasca o in una piscina il suono è cristallino e come sempre c'è il supporto non solo ai comandi vocali e all'assistente vocale quindi Siri, se avete un iPhone o Google Assistant se avete un Android ma potete anche rispondere alle chiamate grazie al microfono integrato l'autonomia è di ben 6 ore andiamo avanti perché voglio parlarvi di un drone, ma non il classico drone da professionisti bensì forse uno dei migliori droni che esistono per i bambini si chiama Lulin X27 ed è un drone molto intelligente nella confezione troverete ben 3 batterie per il vostro drone mentre il telecomando non è provvisto di batterie ma non è un problema perché questo drone può essere usato anche così ma non è un problema perché questo drone può essere usato anche senza telecomando la cosa interessante è che le eliche sono protette quindi il vostro bambino non rischierà di farsi male e di tagliarsi e in più questo drone è provvisto di un sistema di anticollisione che cercherà di evitare ostacoli e di finire nel muro quindi veramente un regalo perfetto per un bambino che vuole divertirsi e l'autonomia diciamo è in circa 20 minuti sta scritto 30 sul foglietto illustrativo ma fidatevi non arriverete oltre i 20 minuti comunque più che sufficienti per far divertire il vostro bambino un altro brand che mi piace tantissimo come ben sapete è Anker e Anker ha adesso lanciato la sua nuova webcam la C300 che è una webcam eccezionale supporto non solo full hd e autofocus ma è in grado addirittura di avere dei microfoni con cancellazione del rumore una clip che permette di inserire una clip che se volete potete aggiungere se avete la privacy alla vostra webcam per appunto proteggere la webcam stessa e poi è adattabile in qualsiasi scenario perché non solo potete metterla su un monitor su un portatile ma il cavo in confezione è un USB-C se non avete un computer con supporto USB-C beh troverete in confezione anche un adattatore è importante poi segnalare la presenza dell'HDR FOV e la correzione automatica in caso di scarsa illuminazione insomma una webcam davvero affidabile se siete dei gamer e cercate un controller versatile e compatto allora questo fa per voi il Nacon Pro Compact Controller è compatibile non solo con l'Xbox One e le Series X ES ma anche con Windows 10 è molto versatile, cablato, ha un'ottima ergonomia ed è adatto a qualsiasi tipo di giocatore completamente personalizzabile non solo nei tasti ma anche nelle brevette sensibilità dei grilletti, motore di vibrazione ed è il 15% più piccolo di un controller classico quindi ideale per qualunque tipo di mano concludiamo con un prodotto di Fritzbox che mi è piaciuto tanto perché Fritzbox è uno dei miei brand preferiti io utilizzo il loro router ed oggi voglio parlarvi di una chiavetta wireless chiamata AC430 questa chiavetta intelligente collega il vostro computer a un router wireless o a un qualsiasi Fritzbox e trasmette sia su frequenze 2.4 che 5 GHz la capacità dell'intera rete wireless risulta meglio sfruttata proprio con l'utilizzo contemporaneo di più dispositivi grazie alla tecnologia MIMO che viene supportata da questa chiavetta l'installazione è molto semplice ottima anche la stabilità della rete wireless ed è compatibile praticamente con tutti i router si installa automaticamente sul computer dopo la prima connessione appena effettuato l'inserimento nella porta USB quindi niente di davvero complicato questi ragazzi erano a mio avviso 6 prodotti che mi hanno colpito, che mi sono piaciuti e che volevo condividere con voi secondo me tra questi si nasconderà qualcuno che veramente state cercando quindi fatemi sapere con un commento quello che vi è piaciuto di più quale avete intenzione di acquistare ma come sempre qualsiasi dubbio, qualsiasi domanda basta lasciare un commentino e io vi risponderò noi ci vediamo al prossimo video ciao